Desideriamo portare avanti la cosiddetta operazione verità, lo abbiamo fatto con i rifiuti, lo stiamo facendo con i conti della regione, lo faremo con le partecipate e via così. Uno accanto all'altro, insieme per fare il punto su quella che sin da subito è risultata essere la situazione critica dei conti regionali, il presidente della regione Nello Musumeci e il vicepresidente, nonché assessore all'economia Gaetano Armao, hanno inaugurato così la conferenza stampa odierna a Palazzo d'Orleana a Palermo. 5 miliardi e 900 milioni di euro di disavanzo e un debito pari ad 8 miliardi e 35 milioni, un dato piuttosto critico, frutto, come ha dichiarato il governatore, di una mancata strategia complessiva del governo precedente. Io credo che non possiamo farci troppe illusioni, almeno per i prossimi 2-3 anni. Serve continuare il negoziato con lo Stato già avviato, con risultati, devo dire, ottenuti da parte dell'assessore Armao già significativi. Dobbiamo procedere alla riduzione della spesa pubblica e quindi degli sprechi, dobbiamo procedere nel risanamento economico-finanziario dell'isola e dobbiamo al tempo stesso sollecitare e incoraggiare investimenti. Con la Corte Conti c'è la massima intesa e collaborazione in tutto questo iter di revisione della spesa, ma soprattutto sulla indicazione di un gettito che garantisca ai siciliani il diritto all'innovazione, di un gettito che garantisca alla Sicilia di poter offrire i servizi ai cittadini che i cittadini meritano per non essere cittadini seribili. È necessario che la macchina di spinta sugli investimenti lavori a massimo regime e non possa essere tarpata da titoli sulla spesa che sono inaccettabili, che il precedente governo ha negoziato e che noi intendiamo modificare.